Le promesse le manterrò, cosa rispondete? Allora, l'altro ieri ha detto che avrebbe mandato ieri la legge di stabilità in Parlamento e non ha mantenuto la promessa, una piccola promessa. Nel suo primo anno di governo Renzi le tasse le ha aumentate di due decimali, questa è una certezza. Berlusconi nei suoi vari anni di governo le tasse non le ha aumentate e in alcuni anni le ha diminuite. Renzi è noto da sempre per essere chiamato il bomba, vale a dire un pallonaro. Era così in gioventù, era così da presidente della provincia di Firenze, era così da sindaco di Firenze ed è stato così nei suoi primi 18 mesi di governo. Basti pensare agli 80 euro che sono costati 10 miliardi di euro al pubblico erario e il risultato di quei 80 euro, lui dice, in meno a una platea abbastanza vasta di cittadini si sono tradotti in aumento della pressione fiscale per tutti i cittadini italiani. Questa è la coerenza di Renzi, queste sono le palle di Renzi. Grazie. Grazie.